Presidente, la delusione è tanta, però resta questo secondo posto anche se adesso le partite di distanza all'Ascoli sono due. Sicuramente non abbiamo fatto una delle migliori partite, loro volevano un punto, l'hanno ottenuto, bravi a loro, anche se questa volta non siamo stati molto fortunati perché non so se il rigore ci fosse, però a prendere il rigore nei minuti di recupero non è una cosa bella, però noi non ci arrendiamo, continueremo, domenica sarà una partita molto importante dove per noi il pareggio poteva andare bene, andremo lì, andremo a vincere. L'Ascoli ha dato a livello psicologico un attimino a tutte le altre squadre un bel colpo, però noi siamo tosti e vedrete che domenica andremo a fare il risultato fuori casa e ci rimetteremo dove siamo perché credo che la squadra abbia tutte le possibilità per fare un grande risultato domenica. Oggi serviva uno spunto di qualche giocatore nostro, loro si chiudevano, hanno fatto un catenaccio dall'inizio alla fine, però dico bravi perché sono venuti qui per pareggiare, il rigore, l'avevo detto ai miei collaboratori che stavano vicino a me, qui la può sbloccare un calcio di rigore, il rigore c'è stato da ambe e due le parti, però dico può capitare, la nostra è una squadra che domenica dovrà andare a fare risultato perché noi abbiamo fatto il nostro conteggio e fuori casa dobbiamo pareggiare, in casa dobbiamo vincere, poi alla fine chi farà più punti sarà più bravo a vincere il campionato. Mister, al di là degli episodi, ci voleva forse un teramo diverso, soprattutto nel primo tempo, per provare a scardinare questa spalla? No, 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 è partita difficile per noi, lo sapevamo, avevamo detto in settimana, è una squadra che comunque ha dei valori tecnici alti e poi ben organizzata, si sono messi a specchio su di noi, hanno lavorato molto molto con attenzione alla fase difensiva, ci hanno concesso pochissimo, ci hanno chiuso tutte le traiettorie sui nostri due attaccanti, hanno fatto un gran lavoro, io pensavo che magari nel secondo tempo potevano mollare un po', mentre invece hanno tenuto a botta fino alla fine, dovevamo essere più veloci, più bravi a cercare un fraseggio con passaggi corti verso gli attaccanti, dovevamo essere più bravi magari a cercare di chiudere meglio sui cross che abbiamo fatto, però le occasioni comunque le abbiamo create, abbiamo tenuto sempre sotto scacco l'avversario, è andata così ma va bene, dai. L'esordio di Milicevic non poteva essere rimandato? No, no, il ragazzo sta crescendo, sta crescendo, ci tengo a rimetterlo in grande condizione, perché è un giocatore di grande qualità, però purtroppo poi gli episodi valgono anche per lui, va bene, va bene. Io ho sempre detto e lo ripeto, il campionato si decide nel periodo di marzo-aprile, adesso siamo agli inizi di marzo e adesso vediamo le prossime partite, vediamo un pochettino quello che fa l'Ascoli, i complimenti all'Ascoli, ma noi non è che dobbiamo fare la guerra all'Ascoli, noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo cercare di continuare questa serie positiva.